Bene, signori, signore, ben ritrovati, benvenuti a questo webinar, oggi 30 ottobre, sono le 18.02, minuti primi, due minuti di canonico ritardo, giusto per consentire a tutti di prendere posto, vi ringrazio innanzitutto in maniera estremamente sincera per esservi liberati per questa sera, non do mai nulla per scontato, il tempo mio vostro è estremamente prezioso, quindi sono molto lieto di trovarvi questa sera. C'è qualche volto nuovo, Federica mi ha confermato che c'è qualche new entry, quindi se, come direi, coloro che stanno partecipando per la prima volta a questo webinar sono qui in diretta, possono tranquillamente presentarsi e magari ci facciamo anche una bella chiacchierata spassionata. Allora, ho messo questa luce un po' soffusa quando si parla di investimenti, in seconda serata è sempre bene mantenere i toni pacati, tranquilli, anche perché voi siete qui per farvi un po' gli affari miei, ma io sono qui anche per dare la possibilità a coloro che hanno già mostrato interesse, a coloro che magari lo mostreranno in itinere, di accedere al mio circolo per investire insieme a me, lavorare insieme a me, al mio fianco, da gennaio 2025 fino a dicembre 2025. Più tardi vi parlerò della speciale promozione web, anzi ve lo dico subito, così tagliamo la testa al toro, già la conoscete perché avete ricevuto comunque le email di conferma per partecipare, per entrare nel circolo ed essere seguiti passo passo nella composizione e soprattutto nella gestione di un vero portafoglio azionario di investimento, a partire da gennaio 2025 fino a dicembre 2025, solo per 5 di voi costerà 5.000 euro anziché 12.000, due conti della serva, un mese di circolo a un prezzo di vistina di 1.000 euro, per 12 sono 12.000 euro, ma solo per 5 magari di voi che siete qui questa sera o coloro che vedranno questa sessione indifferita perché comunque è disponibile i repli, c'è la possibilità di accedere a un prezzo webinar di 5.000 euro anziché 12.000, non c'è nessun IBAN al quale fare bonifico, non c'è nessun link tramite il quale pagare con carta, ragazzi, potete entrare in contatto con FIDE 351-7755-005 e la mia assistente personale ha già validato alcuni di voi, gli ha dato l'accesso perché comunque io ho piacere interagire solo con persone, perdonate questo termine, è orribile, tra virgolette identificate, nel senso che se scrivete che vi chiamate Pinco Palla e avete un certo numero di cellulare, a quel numero di cellulare deve rispondere Pinco Palla, tutti coloro che, ai quali non va bene questa mia decisione, pazienza, vuol dire che non avranno la possibilità di lavorare insieme a me. Dicevo che i posti disponibili sono 5, ma in itinere già una persona ha bloccato l'accesso al circolo per il prossimo anno, quindi signori e signore, solo fino alle 15 di lunedì 4 novembre, vi diamo un po' di tempo, ci sono ancora 4 posti disponibili per accedere al circolo, non mi chiedete se a novembre, dicembre ci saranno altre aperture, non lo so, quello che è giusto che voi dovete sapere è che non sempre aprirò le decisioni al mio circolo, nel momento in cui avrò raggiunto un numero, un tetto massimo oltre il quale non vorrò più avere clienti, non ci saranno aperture. Allora, vediamo un po', la chat score, ciao Giulia, ciao Roberto, ciao Marco, ciao Lalla, ben ritrovato, ciao Stefano, ciao, ciao anche a te Stefano Ferruzzi, ben ritrovato. Allora, quindi, questa sera, prima di entrare nel vivo, prima di condividere l'andamento che mi porto a fuori azionare, vorrei fare un piccolo cappello introduttivo legato a quello che è l'attuale andamento del mercato, vi sto facendo partecipare un brevissimo sondaggio, vi sto chiedendo come il vostro portafoglio azionare in questo momento, la maggior parte di voi sta rispondendo che è bello carico e anche in forte ghini e sono sincero, è anche la mia attuale situazione, nel senso che il mio portafoglio, come vediamo fra un attimo, è carico al 90-91% grossomodo, ci sono state delle interessanti evoluzioni nel corso di queste settimane che ci hanno diviso, ci hanno separato dal precedente appuntamento di aggiornamento del portafoglio azionario e una di queste è che il mio capitale di base montante è cresciuto perché comunque ho smobilitato alcune posizioni in l'autoguadagno e non mi stacco, non tolgo i guadagni dal conto, li tengo lì perché il mio conto è relativamente ancora piccolino, però voglio farlo aumentare man mano, piccolino, a confronto da quello che vorrei che fosse, ma ovviamente sono i soldi che posso permettermi di investire e non sono assolutamente i miei risparmi. Signor, perdonatemi due secondi che apro un attimo la finestra perché fa un caldo torrido, magari si sentiranno un po' di rumori di fondo, però con pazienza, l'importante è che voi mi sentite e mi vedete correttamente. Dicevo quindi, il mio capitale di base è incrementato, vado a condividere direttamente lo schermo così possiamo mettere un po' di nero su bianco. Allora, investimenti Italia. Allora, questo è l'andamento ad oggi, magari alcuni di voi noteranno alcune piccole differenze rispetto alla schermata che ho presentato nei mesi precedenti, mi sto preparando per quella che sarà appunto la schermata da gestire per il prossimo anno, ovviamente questo è un rendiconto, ragazzi, schematizzato di quella che è la mia operatività, fidatevi, se non vi fidate non è un problema mio, è un problema vostro, però tutto quello che è riportato qui ovviamente è contabilizzato anche all'interno della piattaforma di diretta, ma per un mio personalissimo modo di gestire l'andamento dei miei investimenti preferisco anche avere questo spaccato sotto mano. Quindi ho aggiunto la colonna sulla durata dell'investimento, per il prossimo anno vorrò capire quanto pago esattamente, quanto rascio praticamente allo Stato, ogni volta che incasso un dividendo, perché fino a ragionato sempre come un dividendo netto, però la ritenuta so che viene appunto gestita direttamente da diretta, però per il prossimo anno avrò il dividendo incassato, la ritenuta e quindi anche il dividendo netto, quindi mi sto portando un po' il lavoro avanti, inutile di fare il lavoro a ritrusso per tutto ciò che riguarda la mia operatività portata innanzi da gennaio ad oggi. Quindi vi dicevo, le due posizioni che sono state chiuse, anzi le tre posizioni che sono state chiuse nel mese di ottobre sono su Boots Unicem, su Banco WPM e su Myreteknimont, vado a memoria, Myreteknimont, time frame trimestrale, Banco WPM e time frame annuale, Bootsi probabilmente anch'essa time frame annuale, ma vi posso dire che su Myreteknimont il profitto è stato dell'intorno dell'86-87%, ma non me ne faccio nulla, non è una gara a chi ce l'ha più lungo, a chi fa la performance più elevata, a me interessa quanto una performance positiva negativa impatta sul mio capitale di partenza, sul mio capitale disponibile, quindi siccome mediamente in questo 2024 ho investito con un capitale medio di 14.500, capite bene che la posizione chiusa su Myreteknimont di 375 euro di profitto impatta il 2,59%, ed è un bel impatto signori, quindi il mio invito è proprio questo, man mano che si cresce magari si genera esperienza dei propri investimenti, ma anche della gestione dei propri fogli contabili si possono fare questo tipo di ragionamenti, quindi anziché ragionare su quello che è stato il profitto percentuale, la perdita percentuale, io sto ragionando su quello che un'operazione impatta in termini di incremento o decremento del mio capitale, quindi 375 euro di profitto su Maire, 213,90 euro di profitto su Banco IPM, poca roba su Buzzi Unicem e questi profitti mi hanno consentito di spostare il capitale da 14.800 a 15.394, quindi diciamo che per il nuovo anno per il 2025 la mia base di partenza sarà questo a montare, meno che da qui fine fin anno, cosa parecchio probabile non andrò a chiudere altre posizioni che potranno eventualmente incrementare o ridurre il capitale a mia disposizione. Quindi l'ho spaccato ad oggi 30 di ottobre è che i rendimenti netti dei miei investimenti sono dell'8,2% e soprattutto, questa è una statistica molto importante, l'impatto della parità media sul capitale è rimasto invariato allo meno 0,19%, mentre l'impatto del profitto medio sul capitale è dello 0,51, quindi mediamente cosa significa che c'è un rapporto, diciamo un risk reward superiore a 1,2, la vado a sintetizzare, non è un webinar di attico, non è un webinar diciamo legato a spiegarvi i miei protocolli operativi, assolutamente no, è un webinar di aggiornamento del mio portafoglio azionario, ne faccio uno al mese, ci sono su YouTube tutte le registrazioni degli eventi passati, magari per chi fosse interessato anche a vedere una rivoluzione mese per mese, andate sul mio canale YouTube, sfercate Fabio Brigida, c'è una playlist contenente tutti questi video, quindi ho aggiunto anche questa colonna, sempre per il prossimo anno, insomma sto preparando la base per il 2025, dove andrò anche a tenere traccia di quant'è stata lunga la durata dell'investimento in rapporti proporzione alla generazione del profitto e della perdita che l'investimento poi ha conseguito, ok? Ragazzi, io sono in continua evoluzione, non lo faccio apposta però, è una piccola deformazione professionale, sono sempre portato a cercare di migliorare le cose semplificandole, non di certo appesantandole, quindi voglio vedere se è tutto ok qui, perfetto, vedo che la chat funziona, che la linea c'è, quindi qua sta la situazione complessiva dell'andamento dei miei investimenti ad oggi, ovviamente l'8,2% del quale vi ho parlato poc'anzi, l'8,2% del quale vi ho parlato poc'anzi riguarda le posizioni già chiuse, chiaro? Quindi ragazzi, siccome probabilmente questo video andrà anche su YouTube, magari sarà anche un banco di studio per alcuni che mi seguono, ma magari ancora non hanno superato quell'ostacolo nel dover lasciare i dati, non è un problema mio in questo momento, beh, occhio, cioè dovete sempre scendere le cose, un conto è come oscilla il vostro portafoglio azionario, un conto è rendimenti che sono stati già contabilizzati dalle posizioni chiuse, perché finché non si clicca col ditino vendi, ragazzi, possiamo avere le performance migliori sto mondo, ma non saranno mai nostre, non saranno mai contabilizzate, mentre al momento in cui si chiude una posizione o in profitto o in vendita, si può dire che questo investimento mi ha generato X, questo investimento mi ha generato Y, questo investimento mi ha generato un profitto, questo investimento mi ha generato una perdita, so che possono essere delle cose ovvie per alcuni di voi, non lo sono per altri, quindi ripetite gli uvanti, meglio ripetere certe cose per appunto poi essere, non cascare dal pirovo, cioè Fabio, ma io ero in profitto del 76%, adesso ho chiuso il 20%, e sì, è giusto ciccio, cioè eri virtualmente, diciamo eri tecnicamente in profitto del 76%, ma finché non chiudi, quindi un caro saluto anche a tutti quei ragazzini che fanno tenerezza, che iniziano a fare video dicendo quelli che sono le investimenti, però avete un po' di confusione tra patrimonio, tra rendimenti, tra andamento del portafoglio, vabbè, vi voglio bene, però dovete mangiarne ancora un bel po' di pastina. Buono, quindi questa è la situazione ad oggi, vediamo un attimo, vediamo un attimo invece quelle che sono state, anzi facciamo così, giusto perché faccio questo webinar, non sia un totale relax, però voglio che non ci sia alcun tipo di dubbio, è Fabio, è un folio Excel, è un folio Excel, potrei anche semplicemente farvi delle folie Excel, però per eccesso di zero, allora questa è la performance mensile, mentre se vado su un'auto informativa dovrei avere lo spaccato dell'ultima operazione, allora performance mensile è questa, questa dovrebbe essere la vendita su Buzi Unicam, esatto, mentre queste dovrebbero essere le vendite su Maire e su Banco BPM, quindi 613 Euro, 06 di profitto contabilizzato che appunto si vanno a sommare all'andamento degli investimenti già contabilizzati nel mese di settembre. Allora, prima di andare un po' nel dettaglio delle posizioni che invece ho aperto, vi faccio un po', vi spiego brevemente quelle che sono state le motivazioni legate alla chiusura delle posizioni su Maire, allora la posizione su Maire l'ho chiusa perché comunque il titolo aveva una debolezza intrinseca, io personalmente l'ho notata da un po' di tempo a questa parte, era tanto tempo che il titolo batteva delle barriere, comunque dei livelli tecnici, dei livelli chiave, dei livelli grafici molto importanti, ma alla fine non ce l'ha fatta ad andare comunque oltre 8 Euro con forza addirittura, perché magari ha seguito anche le sessioni precedenti, io ho pianificato un pending, un ordine d'acquisto sulla forza, una piramidazione a rialzo sul titolo Maire e Tecniment, ma visto che il titolo comunque non ha dato l'impulso che mi serviva per effettuare un incremento sulla forza, ho preferito gestire la posizione in un altro modo, ovviamente prendendo profitto. Su Banco BPM invece è un discorso leggermente differente, il segmento dei bancari se ne era ancora, personalmente lo reputo ancora forte, è ovvio che siamo in una fascia un po' delicata, però ve ne parlo e offro un attimo. Banco BPM fa parte ovviamente del segmento bancario che ho reputo estremamente ancora in tendenza, ma l'investimento su Banco BPM incideva solo il 2% del mio capitale, perché era un investimento che portavo innanzi sul time frame annuale, quindi era un investimento che averlo o non averlo non è che muovesse tanto il portafoglio per quanto la performance singola fosse ben oltre i 110 punti percentuali. Quindi ho preferito prendere profitto, perché ogni tanto ragazzi bisogna anche gratificarsi, a nessuno piace avere investimenti decennali, trentennali, a me almeno dopo un po' io ho bisogno di prendere profitto, specialmente quando magari ho altre situazioni a compensazione, cioè io ho venduto Banco BPM ma ho intesa, ho ancora unicredito, biperbanca, ho tanti bancari, probabilmente ci sarà un ingresso su banca generale, condizioni permettendo, quindi non è che sono scoperto sui bancari, quindi magari c'è anche una piccola sovraesposizione, ogni tanto è buona norma, è buona regola prendere profitto, ma non in preda al panico, non perché ho letto la notizia sul sito, perché l'analista tecnico mi ha detto che adesso siamo in ipercomprato, ragazzi, datevi una svegliata, e grazie al cacchio che siamo in iperconciati, il mercato sale da due anni, ora non so se chi è qui quest'oggi, chi vedrà poi la sessione di Deplisa, giochicchia no, perché ragazzi quando si parla di messi tecnica si tratta di giocare, siamo seri no, però è normale che siamo in ipercomprato, il mercato spinge a Ferrari dove volete che vada con l'uscillatore normale, che sta sempre nella parte per comprato, sale da quando prezzavo a 220 euro, è arrivata a 4,50, quindi iniziate a discernere la fantascienza degli investimenti seri, siccome so che siete persone serie, parliamo di cose che non hanno a che fare con la fantascienza, per il resto c'è Disney, c'è Topolino, c'è Mini, c'è Paperino, mi piace un sacco Paperino, e poi c'è l'analisi tecnica, chiaro? Buono, vabbè, è la verità, quindi ho venduto queste due posizioni, tratto beneficio, buzioni, c'è un titolo che non mi convinceva più troppo, quindi ho preferito prendere 24 ore di profitto per avere un po' più di liquidità per i miei prossimi investimenti, ma tornando a quella che era il preambolo iniziale, signori, ovviamente, vabbè, qui mi si è tutta tra luce e vino e via. Quindi dicevo, è una situazione questa in cui bisogna comunque prestare attenzione all'andamento del mercato, perché sebbene, come ho detto, il mio portafoglio sia ancora carico e ancora comunque in buon profitto, è evidente che ci sia stato un allentamento generalizzato della pressione rialzista, chiaro? Alcuni titoli stanno aggiornando i massimi anche storici, lo so, me ne rendo conto, se non lo sapete è così, in febbraio aggiornati sui massimi storici, abbiamo avuto poste italiane sui propri massimi storici, insomma, parlo di blue chip, anche qualche mid cap aggiornati ai massimi storici, ma sono mosche bianche rispetto a tutto il resto, cioè, mentre fino a qualche mese fa era una situazione comune trovare titoli, andare verso l'alto, aggiornare sui massimi, su diversi settori, no? Adesso c'è stata una flessione un po' più generalizzata, cioè, o meglio non, una flessione all'alentamento un po' più generalizzato, quindi ha senso in questo contesto pensare di valutare alcune prese di beneficio, assolutamente sì, l'ho detto a poc'anzi, ma retecni, inoltre è la prova provata, il fatto che quando un titolo inizia a non avere più forza può essere il momento giusto per prendere beneficio, diciamo, parliamo di un titolo che ha avuto in portafoglio per tanti, tanti mesi, era gestito sul time frame trimestrale e quindi, ora, vado a memoria ragazzi, però penso che Mairi sia stato un annetto in portafoglio, togliamoci un attimo questo dubbio, posizione aperta il 5 di ottobre 2023, venduta il 18 di ottobre 2023. Quindi perché vi dico questo? Perché adesso che andremo sui grafici e vi mostrerò come sto gestendo le posizioni non in maniera dettagliata, ma in maniera sommaria perché l'obiettivo del webinar è quello di darvi uno spaccato degli investimenti, ora che andiamo sui grafici vedrete come il mercato è ancora forte ragazzi, ma sta subendo una piccola fase di rallentamento. È ovvio, sono sincero, andando sui mie grafici, sui grafici adesso voi non avrete uno spaccato dal mercato globale, avete uno spaccato, avrete uno spaccato di quei titoli per i quali ha senso essere in posizione anche adesso, ovvero i titoli migliori che il mercato sta appunto apprezzando da un paio di anni a questa parte. Di certo ragazzi, sul mio portafoglio non troverete le Nex, non troverete le Campari, non troverete le Amplifon, non troverete le Stellantis, non troverete le STM, e viva i Dio, non troverete le Digital Value, tutti quei titoli che già da tempo davano segnale di forte debolezza. Quindi capite bene che questo tipo di webinar serve per alcuni di voi, per avere anche una visione globale dell'andamento delle cose, ma anche per confrontarsi con quella che è l'operatività che andrebbe dovuta essere effettuata rispetto all'operatività che magari state effettivamente portando avanti. Io vi ho fatto vedere le performance da inizio anno dell'8,2% netto, per alcuni possono essere tante, per alcuni possono essere poche, non mi interessa, e la mia operatività sono le performance che io riesco a ottenere utilizzando il mio cervelletto, il mio cervello e anche la mia vista e le mie strategie decisionali. Nessuno ha meglio di noi, meglio di voi ragazzi in grado di gestire i propri capitali, meglio di altri, chiaro? Quindi prima di delegare ad altri sappiate che un piccolo sforzo potete farlo anche voi. Poi ovviamente c'è il circolo questo termine dalla pappa pronta a coloro che non hanno né tempo né voglia di mettersi a studiare piuttosto che di capire come fa Fabio Brigida a scegliere le proprie azioni o comunque a gestirle mediante i propri protocolli operativi. Quindi se alla fine di questo webinar ti renderei conto che c'è qualcosa che non va, che magari sei uscito in maniera troppo prematura da alcune posizioni, peggio padre che magari sei in perdita, ragazzi non c'è cosa peggiore che essere in perdita con i mercati forti, allora magari fatti un piccolo esamino di coscienza valuta anche la possibilità di entrare nel circolo, sentiti confide, tanto comunque tempo ce n'è fino al 4 di ottobre, c'è questa offerta promozionale speciale webinar 5.000 anziché 12.000 euro e quantomeno inizia a capire come è giusto intendere i mercati, i mercati non vanno né capiti ragazzi, neanche previsti, non vanno interpretati, i mercati vanno semplicemente seguiti, assecondati, dovete imparare a investire in armonia col mercato, ne ad anticiparlo, ne a contraddirlo, ne anche a dire che è tutto un magna magna e che è tutto pilotato perché non è così, chiaro? Buono, allora, se ci sono domande ragazzi, anche inerente all'operatività o comunque qualunque tipo di domanda che non sia un'analisi tecnica perché non ne faccio, potete utilizzare potete utilizzare appunto l'apposita chat, tanto vi siete liberati per questa serata, quindi se avete qualche domanda, qualche dubbio inerente sia il circolo sia magari, non lo so, un aspetto concettuale della mia operatività che non vi è chiaro, potete approfittarne, tanto saremo insieme e non tantissimo, penso fra una mezz'oretta o giù di lì questo webinar sarà comunque, sarà comunque concluso. Quindi, stringendole, tirando le somme, è una fase del mercato dove la fanno ancora da padrone quattro settori, bancari, finanziari, assicurativi e utility, ragazzi tutto il resto via, tutto il resto lasciateli agli altri, tutto il resto lasciateli a quelli che in borsa si giocano, che cazzeggiano a comprare nexi sui minimi, che magari ci mettono un cippino giusto per vedere se sono fortunati, la fortuna e il caso in borsa c'entrano di zero, chiaro? Quindi se guadagnate soldi, nei vostri investimenti è perché voi siete meritati, se ne perdete è perché voi siete meritati, lo stesso è di perdere, chiaro? Quindi in questo contesto, perché faccio questo preambolo? Perché magari alcuni si sentono un po', Fabio non lo so, per io ho paura di chiudere, non vorrei che... ragazzi, il mercato ha rallentato, su questo non c'è più, poi se si tratta di uscire oggi, di uscire domani, di uscire dopodomani, non è un... cioè quando si tratta di ragionare su time frame ampi come mensile, trimestrale, annuale, ragazzi capite che la scelta di uscire oggi o domani non è che cambi più di tanto, cioè se avete operato bene in passato non sarà un più 3 o meno 3 a cambiare la vostra performance. Se invece avete operato male in passato, nel senso che siete rimasti fuori, sappiate che al di là delle tue 3 operazioni che ho aperto io qualche settimana fa, questa non è una fase contestuale all'interno della quale aprire nuove posizioni. Questo è il mio personalissimo, spassionatissimo punto di vista. Ok? Allora, condividiamo lo schermo. Allora, 30 di ottobre, vado a zoomare un attimo, vediamo se tolgo un po' qui, così abbiamo un po' di spazio. Devo cliccare su nascondi, così va via la... Perfetto. Allora, questo l'ho spaccato nel mio portafoglio azionario. Ad oggi è in profitto del 16,81%, 13.048 euro di capitale investito, 15.238 e attualmente il ritorno di questi investimenti non contabilizzati, chiaro? Quindi l'8,2% di prima riguarda posizioni già chiuse e non necessariamente posizioni che ho aperto quest'anno. Magari, ad esempio, la posizione su Banco BPM è durata 24 mesi, quindi io oggi sto contabilizzando una posizione che ho aperto due anni fa. Ok? Dico queste cose perché io mi metto sempre nella posizione di avere dinanzi a me persone che, se sono qui è perché magari sono in difficoltà anche, se sono qui è perché magari hanno voglia di capire come poter migliorare la propria situazione e magari sono anche persone le prime armi, quindi ripeto, so che sono clienti storici e ho piacere di ritrovare qui periodicamente e ci sono anche persone che si stanno aggiungendo mese dopo mese perché comunque hanno iniziato da vicino al suo modo di investire, alla mia fila socia operativa, vedo dei video su YouTube, io sono l'unico mio collettore, il mio collettore principale di futuri clienti a YouTube, oppure ogni tanto pubblico degli articoli di video anche su Traderlink e ringrazio il portale Traderlink.it che mi dà la possibilità di esprimere la mia opinione anche sulle loro pagine, Traderlink che è la software house con la quale ho anche una partnership relativa alla visual trade, quindi chi fosse interessato anche a iniziare a prendere dimestichezza con questi stupendi quadri grafici puliti, ma guardate quanto sono belli i quadri grafici puliti, bello, qui c'è la tentazione di aggiungere, si può aggiungere un fibono, no, no, puliti, ok? Quindi chi vuole iniziare a utilizzare la visual trade e scrivesse a Fede, scrivesse a Martina, office, chiocciolafobbluge.com, vi possiamo dare un mese gratuito con tutte le funzionalità della visual trade. Ad ogni modo, nei dati real time ed end of day, ad ogni modo questo è lo spaccato globale, quindi questo è il mio portafoglio azionale, ovviamente come già sapete, se non lo sapete ve lo spiego, io investo su diversi time frame, si parte dal mensile, poi c'è il trimestrale, poi c'è l'annuale, quindi tutte queste azioni che vengono collezionate in quest'unica schermata sono spacchettate in investimenti mensili e ad oggi gli investimenti mensili generano, o meglio, investimenti che gestisco su un time frame mensile generano un 7,97% di performance positiva. I trimestrali penso vadano decisamente meglio, abbiamo un 23,09% di performance positiva e tra questi spicco ovviamente Ferrari, abbiamo anche Unipol 102%, so che questo rialzo su Unipol è comunque condiviso anche con alcuni dei presenti qui questa sera, bravi, bravi se avete Unipol da quando bisognava averle, bravi se avete avuto anche la capabilità e soprattutto l'intelligenza finanziaria e gestionale di mantenere l'investimento così a lungo. Perché dico questo? Perché ragazzi c'è chi magari appena vede un 3,4, 10% di profitto pensa che fa me li togliere, non si sa mai cosa accade ormai. Ecco ragazzi, non è così che bisogna approcciare l'investimento, non è così che bisogna investire in azioni, non è così che bisogna gestire i propri capitali. Quindi il mercato dà la possibilità di generare profitti? Ma certo che sì. Certo, ma a chi la dà questa possibilità? Beh la dà a coloro che la sanno cogliere, la sanno gestire. Anziché andare a cercare un punto di ingresso su Nexi, anziché andare a cercare un punto di ingresso su Stellantis, anziché potessero andare a cercare una pianificazione su Campari, che Campari ho due anni, che Shanna ha, io mi rifiuto di farvi vedere Campari oggi, perché non ha senso, io ci tengo, io vi rispetto, vi reputo persone intelligenti e non mi metterei mai, mai nella posizione di dirvi guardate qui su Campari c'è un supportino, magari è il caso di entrare, no, Campari ha due anni che Shanna. Il meno 16, non so quanto ha chiuso oggi, forse avrà chiuso meno 16, 17, meno 13, non lo so. Eh, signori, Campari in questo momento è meno 17,93. Perdonate se sentite un po' i rumori, ma dove sono qui oggi, o meglio, sono qui da un mesetto, fa veramente caldo, ho dovuto aprire un po' la finestra, però o me è grondante, o i rumori, meglio i rumori, non è grondante. Guardate qui. Ragazzi, cliccate qui, zoomate, andate su giornaliero, ok, e stampate questo quadro, capite che anche un bambino, anche l'ultimo mio potenziale utente, potenziale cliente, utente iscritto alla web, ragazzi, anche egli saprebbe dirvi che qui il titolo sta scendendo. Ma perché? E perché ragazzi, se un prezzo passa da 13 a 12, a 11, addi, ma chi cazzo volete che lo compri? Non di certo le persone finanziariamente intelligenti, finanziariamente intelligenti, ok? 17 punti di perdita, dopo che il titolo ha perso già oltre il 50%, non bastano per solo capire che forse non è il caso di focalizzarsi così tanto sui titoli che scendono, ma è il caso di iniziare a girare i quadri grafici, beh, me lo auguro, me lo auguro vivamente. Me lo auguro vivamente. Quindi, dicevo, portafoglio trimestrale, Svetta Unipol più 102, Ferrari 78, poi abbiamo la spicciolata, il C17, banca NPS 74. Ecco, banca NPS, fatemi prendere un appunto perché ne parlerò fra un attimo. Ovviamente, signori, come ho detto prima, potete anche interagire tramite la chat o per magari mandare un commento quando vedete questo video in differita, insomma, non lo so se c'è la possibilità di commentare questa diretta o se andrà su YouTube, non lo so. Uno può dire, beh, Fabio, ma perché il video va su YouTube? Mi chiesto i dati per essere... è certo, cioè, chi lo vede su YouTube di certo non ha tutto sto vantaggio di poter eccetera, circolo. I posti sono limitati, ragazzi, cioè, chi prima arriva, diciamo, meglio alloggia quando i quattro posti disponibili, se andranno sold out, verranno occupati e non ce ne sarà più, non ce ne sarà più disponibilità. Quindi, come dire, metto questi video su YouTube anche per alimentare il canale, per continuare anche a diffondere, diciamo, la mia visione dei mercati, però è normale che chi è qui ha sicuramente le intenzioni differenti, ma anche la priorità per poter entrare nel mio circolo. Ragazzi, nulla è dovuto al caso, né in borsa e tantomeno nell'ecosistema di Fabio Brigida. Quindi, vi dicevo, portafoglio mensile, portafoglio crimestrale e portafoglio annuale. Se ho preso una nota su Banca e NPS, vi stavo dicendo, se qualcuno di voi è qui questa sera che ha un po' di turbe legate alla gestione, magari di una posizione, ripeto, non è un'analisi on demand, ci mancherebbe altro, però se qualcuno ha bisogno di un consiglio, fate pure, utilizzate la chat. Magari potrebbe essere un mondo per confrontarsi, per capire meglio, anche per avere la mia spassionata visione, tanto sono responsabile di quello che dico e faccio con i miei capitali, ok? Non di quello che dico e vi dico di dover fare, perché alla fine io non so, non è se poi lo applicherete tanto meno, se lo applicherete esattamente come l'avrei fatto io. Chiaro però, scambiare le chiacchiere, visto che siamo qui in confidenza in questo webinar serale, male non fa. Portafoglio annuale, invece, ho solo tre titoli, A2A, Mondadori e Prismian, Prismian è quello più, che ha un impatto più importante, 52-57%, gli altri fondamentalmente si compensano in percentuale, però l'esposizione su A2A è quasi un po' meno del doppio rispetto a quella su Mondadori Editore. Buono, quindi questo è come sta andando il mio portafoglio azionario ad oggi, più 16,81% di performance non contabilizzata. Adesso vi porto un po' dentro il circolo, vi faccio vivere in maniera molto, molto tattile, in maniera anche concreta ciò che si fa ogni giovedì e ciò che voi avrete la possibilità di fare al mio fianco ogni giovedì a partire dal gennaio 2025 per un anno. Ci mettiamo belli comodi ogni giovedì pomeriggio e analizziamo non solo le posizioni che sono presenti all'interno del mio portafoglio azionario, ma anche quei titoli che possono essere messi su Tokyo o seguiti all'interno dei purgatori. Allora, prima di entrare, prima di fare questo tipo di discorso, rispondo in maniera molto, molto semplice alle domande che sono giunti anche in questi giorni, sì, ma che cos'è il circolo nel capitolo? Ragazzi, non c'è nulla di complicato, il circolo non è né un percorso didattico, non è né un percorso di... non è un percorso. Il circolo è un servizio premium composto da una serie di appuntamenti settimanali ogni giovedì, da gennaio a fine anno, quindi sono 52 settimane, datemi almeno 3-4-5 settimane l'anno di pausa, quindi saranno che ne sono 45-47 appuntamenti all'anno in cui io ho il piacere di mostrare a chi è nel circolo come investo, come interpreto il mercato e soprattutto quelle che sono le mie scelte operative in condizioni di incertezza. Poi c'è chi è già mio studente e vuole fare un po' anche di testa sua, c'è chi invece fa, io non ho nel tempo, ne voglio, è chi nasce, come si scrive, ma che so, fai tu, fai tu e fai piovere, come si dice a me, fai tu e fai piovere, io poi magari vedo se replicare o meno quello che tu fai assumendomi il rischio dell'investimento. Quindi questo è il circolo. Voi lavorate con me per un anno, vi sedete virtualmente al mio fianco, utilizzeremo una piattaforma che non è, come dire, questo webinar gem, bensì è una piattaforma all'interno della quale io posso vedere voi e voi potete vedere me, cioè finalmente io non parlo con un computer, ma parlo tramite un computer a persone, ai miei clienti. Quindi vi faccio vedere un po' lo spaccato di quello che è il prospettino gestionale che hanno i miei clienti del circolo. Allora, c'è il class, dove appunto io effetto tutte le comunicazioni operative che vengono, come dire, che cadono all'interno della settimana, ma delle quali magari non abbiamo parlato all'interno del circolo. Che ne so, ci potrebbe essere una notizia che è piuttosto un impulso di rottura o un impulso importante che magari il giovedì non era stato affrontato, ma però durante la settimana questo accade. Allora io dico paro paro, qui tramite Classroom, informo tutti i clienti di quello che sto facendo. Ora vado in maniera un po' più rapida. Poi ci sono le sessioni live, c'è l'area operativa dove appunto viene gestita tutta la parte operativa e poi c'è l'archivio delle registrazioni. Chi è nel circolo ha accesso a consultare le registrazioni correnti e anche quelle pregresse, se magari vuole farsi un'idea di come è investito in passato, perché no? Anche per avere un'idea di quelle che sono state le evoluzioni. E ragazzi, paradossalmente, essere nel circolo vi dà la possibilità anche di imparare eventualmente come diventare autonomi per chi mi ha voglia. Però ripeto, non è un servizio dove io vi insegno, è un servizio, sono degli appuntamenti durante i quali io ho piacere a condividere in maniera schierta e semplice quella che è la mia operatività. Poi c'è chi replica, assumono i servizi, c'è chi magari è lì semplicemente perché ha piacere ad esserci. Vi dico la verità, ci sono clienti che sono nel mio circolo a due o tre anni, perché il circolo è nato due anni e mezzo fa si chiamano investi tre mesi in borsa con Fabio. Alcuni di voi ne hanno già fatto parte, poi ho detto a Fede e a Martina, ragazzi, basta, ogni tre mesi ho bisogno, ho voglia di lavorare con poche persone per periodi più lunghi, quindi investi tre mesi in borsa con Fabio è diventato il circolo dove si entra e ci si, come dire, ci si sopporta, ci si incontra ogni settimana, indicativamente, il giovedì. Quindi adesso vi porto dentro un po' quello che accade a porte chiuse. Allora questo mi ho spaccato dei quadri grafici mensili, vi ricordate che ho parlato poco anzi del portafoglio porzionato in mensili trimestrali annuali, quindi partiamo alle mensili. Qui io vedo una regolarissima amministrazione delle posizioni, non c'è nulla di particolarmente eclatante, probabilmente l'unico titolo che potrebbe per alcuni versi dare un po' più di noia è sicuramente Brunello Cucinelli, sul quale comunque c'è questo tentativo di inversione che ancora non viene portato a compimento. Quindi io su Cucinelli sono in leggera perdita, almeno 4-62%, però per ciò che riguarda i miei protocolli, per ciò che riguarda le mie esperienze, per ciò che riguarda quello che il titolo del mio marito sta facendo e non sta facendo, probabilmente sarei più orientato a vendere questa posizione, magari può rientrare dinanzi a un nuovo segnale di forza. Però per quanto riguarda il time frame mensile, io non vedo particolari criticità. Ovviamente signori, signore, capitemi, ve la sto snellendo, non voglio fare una sessione gratuita del circolo, però per darvi l'idea di cosa accade ogni giovedì, altrimenti avrei fatto una classe aperta del circolo e starei qui a spiegare il perché e il per come. Però facendo così mancherà di rispetto a coloro che hanno già, come dire, prenotato le proprie sedute per il prossimo anno e quindi vi rendo partecipe di quello che si va a fare in maniera molto più approfondita, però questo pomeriggio, anche perché è già sire, vi introduco pian piano ciò che vi aspetta quando la decidirete di occupare uno degli ultimi quattro posti rimasti e lavorare al mio fianco. Ovviamente non andremo questa sera a parlare di purgatori, i purgatori sono quei desk dove io settimanalmente, periodicamente aggiungo dei titoli che possono essere delle new entry nel mio portafoglio, le quali appunto magari possono sostituire alcuni titoli che decidono di vendere. Io non è che lavoro solo al circolo, ragazzi, il mio lavoro, il mio mestiere è quello di analizzare graficamente i titoli, lo faccio per i clienti paganti e perché è una cosa che mi piace fare e soprattutto è una cosa che piace fare per gli investimenti, cioè che sia chiaro, io quello che dico faccio, io ho piacere prima a investire per me e poi a mostrare alle persone come lo faccio. Chiaro, quindi io ho tutto l'interesse affinché in investimenti vadano bene, mercato permettendo. Mercato permettendo. Sento il bisogno di dover un attimo fare una dip, una spiegazione un po' più profondita su questo discorso, perché magari io non so quali sono i vostri percorsi, i percorsi di uno di voi, non so da dove venite, se venite, se dove andate, da quale formatore o da chi, però intanto sono contento che voi siete qui. Allora ragazzi, fare il 102% su Banco UPM, fare il 70% su Ferrari, 80% quello fare X percentuali sulle azioni, è una cosa da tutti i giorni. A meno che voi non veniate dall'universo che non mi compite, non ho dell'operatività in leva, mettete una leva a 5, una leva a... no. Muovere in Italia, parlo di mercato italiano, muovere una percentuale così importante su un titolo singolo, serve un mercato forte. Ogni anno i titoli fanno il 50, 60, l'80%. Mi darà una conferma a coloro che sono comunque sui mercati anche da più tempo di mai. Io ho iniziato a analizzare i primi grafici a candele giapponesi, anche per dire al 2011, 2012, i miei clienti, l'85% dei miei clienti sono pensionati, la parte rimanente sono imprenditori o libri professionisti. Ma lavoro con persone che ne hanno viste più di me dal punto di vista anagrafico, anzi sono persone più adulte, è normale che magari sono sui mercati da più tempo. Ma non cambia. Cioè non serve, cioè non conta da quanto tempo uno è sul mercato, se poi ciò che ha imparato nel brano di male non viene applicato, chiaro? Quindi, occhio, non è così facile avere una doppia cifra sul mercato azionario, anzi, diciamo una doppia cifra sì, ma una tripla cifra molto difficile se non c'è un mercato in tendenza. Quindi le performance delle quali vi sto parlando oggi, ragazzi, sono frutto dell'aver saputo gestire un mercato straordinariamente forte. E quindi quando il mercato è straordinariamente forte, è possibile avere anche risultati straordinariamente interessanti. Ma poi quando il periodo delle vacche grasse svanisce, non devono rimanere gli impianti di, eh, se fossi stato più bravo a se avessi, no. Ora che c'è forza, ah, ripeto, ciò che ho detto poco fa, ora non è tempo di aprire posizioni. Io sono entrato di recente, ecco, mi sono dimenticato di condividere comunque questa schermata, sono entrato di recente su, eh, ricordati su Italgas e su Biperbanca. Eh, parliamo della prima settimana di, eh, seconda settimana di ottobre. Quindi Biperbanca, Italgas ricordati, sono state delle new entry. Reply si è trattato di una piramidazione a rialzo e Banca IFIS anch'essa una piramidazione a rialzo. Chiaro infatti l'importo è leggermente più basso perché ero già in posizione su, sia su Banca IFIS che su Reply. Quindi le performance che vi vedete su questi titoli sono state pressoché dimezzate su Banca IFIS. Ora sono in profitto e oggi è 68. Prima lo ero tipo del 35-36 con un capitale più ridotto. Ho fatto quello che va fatto, ovvero piramidare sulla forza quando il titolo è ancora forte e chiama una piramidazione. Stesso discorso su Reply. è un game del 20%, piramidato a rialzo, ovviamente la percentuale di profitto si riduce ma l'impatto, ma il montante di base diventa più elevato. Ragazzi, anche questa azione di piramidare a rialzo, eh, per alcuni può essere arabo, può essere una scienza, può essere qualcosa di strano perché magari viene sempre detto che bisogna mediare al ribasso, sì, ma fin da uno che ha comprato Campari, che ne so, a 11, sì, ce l'ho con Campari ragazzi, perché dovete imparare, dovete imparare a diffidare dei ciarlatani, farabutti che non sono, cioè uno che ha avuto Campari a 12, no, che poi ha mediato a 10, e che poi magari ha mediato di nuovo a 8, ma ragazzi, ma ora che sta, quanto sta? Ma neanche lo so, starà 6 euro, 5 euro, non ho più pari di idea. Ora che sta a 6 euro e 37, ma cioè che deve mediare di più. È finito, quel capitale è andato letteralmente a farsi benedire, perché ragazzi per recuperare una parte del 50%, dovete fare il 100%, quindi meglio mediare, meglio piramidare sulla forza, meglio comprare a prezzi più alti quando c'è la possibilità e aumentare il montante in profitto. Cioè, piramidare significa che io sto già guadagnando, incremento la posizione mantenendo un margine in profitto. Piramidare non vuol dire che sto nella merda, sto perdendo il 20%, ora che il titolo ha perso di 10, ci metto il triplo di quello che è in proporzione a quello che ho già, così abbatto il prezzo, no ragazzi, non è, non è, non è così che funzioni. Quindi sul mensile, questi sono titoli che stanno tenendo ovviamente botta o comunque che hanno rallentato il proprio trend, però fondamentalmente sono ancora sui massimi, ma perché sono titoli selezionati con nello stop picking oculato. Unicredit ragazzi, Unicredit mi sorprende in maniera positiva. Unicredit è un altro titolo sul quale ho contabilizzato un buon profitto qualche tempo fa, un profitto che ha smosso del 2,03% il capitale globale e ho venduto Unicredit dopo un anno e mezzo di investimento perché l'esposizione era solo al 2%, ma sono rientrato a un prezzo più alto incrementandone l'esposizione e gestandola su un timeframe più basso. Quindi vi rimando ai replay di queste sessioni che trovate su YouTube, parliamo dell'aggiornamento del mese scorso, di settembre, quindi ho venduto una posizione in profitto, non mi ricordo a quanto, probabilmente a 37, 38 euro, ero entrata a 17, ma sono rientrato a 40, 31, è un prezzo più alto di quello al quale io l'ho venduto. Perché ragazzi, perché io non credo alla favola dei ritracciamenti? Quando io sento la favola, cioè un titolo sale da due anni e voi siete fuori? Non voi, cioè perché aspettate a ritracciare? Ma cazzare, potrebbero non ritracciare mai. E capite qual è la... Entrate, quando c'è forse entrate? Non ho aspettato il ritracciamento che potrebbe non arrivare. Non poteva, beh Fabio, eh sì, però, ma rischioso di che? Come tutti gli investi fondamentali, nessuno dei investi fondamentali è in posizione su Ferrari, perché Ferrari costa 440 euro. Ferrari non costa 440, prezzo a 440 euro. Voi non comprate mai un valore in borsa, ragazzi, comprate sempre un prezzo. Quindi se il mercato ha spinto Ferrari da 50 euro a 80 euro a 120, a 220, da 120 a 300. Il mercato, che ragione? Non voi che siete rimasti fuori. Chiaro? Ok. Quindi nel circolo tutto ciò viene messo per, vuol dire, iscritto, viene riso, viene riso per attivo. Ovviamente, confermo ciò che ho detto poco, anzi, questo è un momento leggermente delicato per comprare, però nei purgatori qualcosina, qualcosina c'è, però ovviamente la vedremo poi in privato durante la sessione del Cilio. Il circolo, ecco, domani è fin domani, giovedì 31 e l'ultima del mese. Quindi, ragazzi, la promozione della quale vi ho parlato poc'anzi vale a partire da gennaio, cioè quest'oggi stiamo aprendo a 5 persone per gennaio 2025, fino a dicembre 2025. Ma se voi avete interesse anche a entrare subito, sentitevi con Fide, vai, scarico questa responsabilità lì, tanto ragazzi è Fide che decide chi entra e chi non entra, io alzo le mani, però ovviamente c'è eventualmente la possibilità anche di entrare nel circolo fin da subito, però magari sarà un supplemento di prezzo. È un scenario che non abbiamo valutato, ancora anche perché adesso il circolo è già abbastanza pieno, sto bene con gli clienti che ci sono. Quindi non sento la necessità di aggiungere altri investitori, però se qualcuno di voi vorrebbe entrare già domani, il numero di Fide ce l'avete, 351-7755-005. Quindi questo l'ho spaccato mensile. Andiamo sul trimestrale, che è il timeframe che io adoro, è il timeframe che prediligo più di tutti. Ferrari, regolare amministrazione, così come Repi, così come Unipol, così come Sol, così come Acea. TXT, ragazzi, TXT massimi storici, forse non lo vedete perché è un trimestrale, ma TXT in questo, in questo mese di questo ultimo trimestre aggiornato i suoi massimi, una, due, tre volte. Ok? E TXT con questo pattern spettacolare che ha fatto? Però, ripeto, giusto per magari cercare di leggere anche nella mente di alcuni di voi, ragazzi, voi non c'è bisogno che conosciate i pattern che io utilizzo per vedere nel circolo, vedere nel circolo è vedermi perare, stop. Che poi, però smusi, imparerete anche voi a riconoscere i pattern che uso come gestire le posizioni, è un altro conto, ma l'obiettivo del circolo non è quello di insegnare, l'obiettivo del circolo è quello di operare. Diciamo che sul trimestrale già l'ho spaccato leggermente diverso, già l'ho spaccato leggermente diverso, perché vedete qui, ad esempio Mediaset, Mediaset chiama un po' di attenzione, quindi sul Mediaset potrebbe essere valutabile una chiusura della posizione. Ora, io non so quale... Allora, sul Mediaset sono in perdita del 4,08%, poca ruba, in questo momento di temporanea debolezza potrebbe essere più corretto non avere più il titolo in portafoglio, però valuterò con calma nei prossimi giorni. Come vedete non c'è fretta, l'importante è capire che qualcosina sta cambiando. Qui c'era forza, qui c'era forza, qui c'è ancora una candela di spinta rialzista, ma nettamente più contenuta questa spinta rispetto ai trimestri precedenti. Banche MPS. Allora, fatemi vedere un attimo se c'è qualche domanda in chat, perché io quando condivido il grafico non ho la chat sotto mano. Ciao, ciao Claudio. Ciao Stefania. Sì Roberto, se metto Fibonacci pago da bere. Roberto dice, per l'esperienza posso dire che è davvero difficile reggere il profitto emozionale, sì, 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 però ecco perché serve avere delle regole. Però ogni tanto gratificarsi, eh. Però dopo tanti brini si raggiunge la consaporezza e la felicità dell'Eikinashi. Seguire il mercato per l'Eikinashi e il metodo di Fabio aiuta molto. Grazie, grazie Giulia. Sì, sì. Ma sì, Roberto, diciamo, Roberto è solito mettere in fresco un prosecchino quando la performance è veramente importante. Invece si stappa di meno, ma si sale di qualità. Diciamo, questo è anche un raggiungimento di una pace operativa molto importante. Cioè, anche io ho ridotto di parecchio i titoli particolarmente volatili all'interno del mio portafoglio proprio perché voglio meno bombette, tra virgolette, meno esplosività e voglio più robustezza. Però è il mio, la mia personalissima visione delle cose. E comunque di pattern ce n'è solo uno che funziona ed è quello legato ovviamente, ce ne sono più di uno, sono sincero, però sono tutti legati al discorso di acquistare la forza o di operare in accordo con la volontà del mercato. Allora, vi stavo dicendo, prima vi ho raccontato di Myra Tech, la piramidazione mancata sulla forza e la presa di beneficio di un buon capital gain. Su Banca MPS potrebbe cadere lo stesso. Banca MPS è un titolo che io ho intenzione di piramidare a rialzo, dovrebbe esserci ancora il pending. A 5,45, piazzato il 26 di settembre. Capite bene che oggi è il 30 ottobre e questo pending non è scattato, ok? Cioè, su Banca MPS sono in profitto del 74 al 90%. Voglio incrementare la mia posizione, fare un 3 più 2, quindi passare dal 3% al 5%, ma quel livello non viene ancora preso. Il fatto che il livello non sia stato ancora toccato, il fatto che il titolo non abbia ancora sperimentato una piramidazione, cosa significa? Che l'adegualezza è presente, che la forza rialzista è leggermente calata. Quindi potrei anche ragionare in questo modo. Cioè, io comunque ho un livello chiave, 5,45, 5,50, anche se più un titolo ritarda il movimento, più io sono orientato a liberare, ma nel momento in cui dovessi entrare in posizione andrei a chiedere qualcosina in più al titolo. chiaro? Quindi magari se adesso l'idea di piramidazione era 5,45, adesso magari se quello dovessi uscire in profitto, entrerei ovviamente su Banca MPS a livello maggiormente più alto rispetto a quello del quale ho parlato poc'anzi. Ehi ragazzi, è così che si fa, quando il titolo è incerto, voi dovete chiedere più certezze. Non buttarvi nella misca e comprare le fasi laterali. La fase di accumulo, fase di distribuzione. Ma che mi interessa se è un accumulo, in distribuzione? Perché io penso, tutti gli analisti, ma questa è una fase sicuramente di distribuzione. Poi bam, il studio fa un più dieci. Eh, non ci hanno sbagliato. Pensavo fosse una fase di distribuzione, invece era una fase di accumulo. Ma capite bene che al mercato non ne fotte nulla. Se voi abbiate visto giusto in precedenza, e al mercato interessa andare dove deve andare, dovete essere scaltro e intercettare il movimento seguendo la direzionalità. Quindi la teoria lo lasciamo sui libri. Ciò che conta è capire, essere in grado di leggere correttamente le diverse dinamiche del mercato e essere consapevoli che adesso potrebbe essere anche una strategia più intelligente, valutare qualche presa di beneficio su alcuni titoli. Quindi, ripeto, non ci metto la mano sul fuoco, perché comunque non è questo l'obiettivo dell'obiettivo dell'obiettivo, però magari vi metto questo pallino, questa pulce all'orecchio anche su un titolo come Bank NTS, che mi auguro che voi abbiate comunque avuto in portafoglio. È quasi un anno e mezzo che il titolo sale, ragazzi. Ricordo, anzi, sono più di due anni che quanto meno i minimi salgano, però sicuramente da un anno a questa parte Bank NTS ha dato segnali di forza, ok? Sì, veniamo da un contesto terribile, però intanto è inutile pensare a ciò che ha fatto il titolo nel 2000 è mai importante, è anche focalizzarsi su un cambiamento strutturale del trend, alcuni pattern importanti, soprattutto una corretta gestione delle posizioni. Quindi può anche darsi che Bank NTS, ecco qua la differenza, magari la vediamo su un altro tipo di grafico. Vediamo sul mensile. Allora, Bank NTS ha questo tipo di approccio, no? Ha questo livello chiave. Unicredit invece è tonico. Unicredit ha aggiornato i massimi. Unicredit tra ieri e oggi ha fatto nuovi massimi. Quindi ora sto entrando un po' troppo nello specifico, però anche per spiegarvi alcuni dei ragionamenti che sono alla base delle mie scelte operative, delle mie scelte gestionali. Cioè Unicredit rispetto a Banca NTS attualmente è sicuramente un po' più tonico, un po' più vitale. Però anche questa piccola variazione di quello che un titolo fa e non fa comparato ad altri è molto importante. Quindi su Unicredit io non ho alcun dubbio di mantenermi in portafoglio. Su Banca NTS, sul trimestrale, che è un trimestrale estremamente importante, qui si nota qualcosa di cruciale per la gestione del titolo. Chiaro? Quindi ci potrebbero essere condizioni per prendere profitto? Assolutamente sì, sarebbe comunque un profitto interessante. Su Banca NTS parliamo del 74-75%, quindi circa 300 euro di profitto su un capitale di 14.500 euro. Ma poi Fabio, se vede Banca NTS sfondare questo livello, entrerà probabilmente con un'esposizione maggiore o con un'esposizione maggiore uguale a quella che avrei avuto se fosse riuscito a piramidare la posizione. Quindi per il momento sulle new entry non c'è particolarmente nulla da aggiungere. Si sono entrato in posizione su Italgas, ricordati due settimane fa. Certo non vado a mettere in dubbio dopo così poco tempo la mia scelta operativa, mentre Mediaset e Banca NTS, insomma, qualche piccolo indizio indizio in liquidazione e lo stanno fornendo. Vediamo sugli annuali. Gli annuali come avete visto c'è due A, regolare amministrazione, Mondadori e anche Prismian. Regolare amministrazione su Prismian è uno dei pochi titoli ad essere sui massimi storici. Probabilmente vado a memoria Prismian e Ferrari sono gli unici dei titoli del Fuzzinib sui massimi storici. Non parlo di massimi relativi, eh. Parlo di massimi storici. Probabilmente sì. Probabilmente sì. Però per conferma... Ah, Terna, sui massimi storici anche. Quindi Terna, Prismian, Ferrari. Ricordati, però Ricordati non li ha aggiornati i massimi storici. Io parlo di titoli che... Ma dai, Ricordati può essere anugrata tra i titoli che sono in prossimità dei massimi storici. Però io parlo di titoli che di recente hanno aggiornato i massimi storici, quindi no. neanche Terna. Quindi, Ricordati... Prismian? Prismian, poste italiane. Ok. Nexi mi sa che non è sui massimi storici, però fatemi vedere... Ah, infatti, sì, ricordavo bene. Mediobanca neanche. È in prossimità, ma non è proprio sui massimi storici. Ferrari, ok. Cucinare non possiamo dire che sui massimi storici, perché ha staccato i massimi storici di oltre... Insomma, oltre 25 ore per azione. Quindi capite bene che già avere in portafoglio due o tre titoli che si proiettano verso i massimi storici, senza saperne leggere né scrivere, è molto meglio che avere dei titoli che si proiettano sui minimi storici. O sto dicendo una cosa di fine? No. È la verità. Se poi insieme a titoli che si proiettano verso i massimi storici, avete anche titoli che si sono proiettati verso i massimi di periodo, ce ne sono a Bizzelf, ragazzi, state investendo, bene, state investendo in armonia col mercato. E' una cosa ancora più tranquilla, è una cosa ancora più importante. Se investire su questi livelli di prezzo, di massimi, vi crea un po' di patima, partite con poco, prendete confidenza, prendete consapevolezza, e poi capirete che magari una via più semplice per cambiare il vostro modo di investire c'è ovvero quella di stravolgere il vostro approccio. Se invece avete bisogno di essere presi per manina, il circolo è a vostra disposizione fino a... L'apertura al circolo sono a vostra disposizione fino a lunedì 4 novembre, fino alle ore 15. Buon, signori, io avrei concluso... Io avrei concluso la disamina, quindi per fare un piccolo recap. La situazione è sicuramente gestibile, poi vengo alle vostre domande. Quindi se ci sono domande, ragazzi, stiamo insieme ancora un po', poi vi lascio alle vostre cose serali. Allora, la situazione è questa, il portafoglio in profitto, va bene, un mercato che consente di avere un portafoglio in profitto c'è, non è una fase del mercato all'interno della quale poter scorazzare per aprire posizione a destra manca, cosa che invece era fattibile sicuramente fino, quantomeno fino al mese di giugno, maggio, giugno e luglio, perché in aprile, maggio e giugno sono stati mesi in cui chiudevi gli occhi, spingivi, potete sicuramente guadagnare, almeno su un buon 30-40% dei titoli di piazza affari. Questa è una fase in cui bisogna gestire ciò che di buono è stato fatto in passato, se di buono in passato avete fatto poco, statevi fermi perché non è un mercato al momento che acconsente acquisti fatti semplicemente per un senso di rivalso, un senso di rimorso, non si dire cacchio però, poteva entrare a 20, ora che a 40, sì, ok, ma con un money manager è il più conservativo, io sono il primo a dire che è meglio entrare in posizione di ritardo con poco che non entrarci proprio, ma quando questo non è un qualcosa che si si ripete in maniera cosciente, capita ragazzi che un titolo vi possa sfuggire, parlo per chi vuole fare stock picking, capita che un titolo vi possa sfuggire, ma se invece a farvi sfuggire è la vostra paura di rimanere col cerino in mano, allora dovete un attimo trovare una quadra, il cerino in mano, io che compro i massimi non me lo sono mai sentito, chiaro? no? E considerate che anche chi compra quando i trisciandano perde, quindi non è che c'è questo, c'è questo, c'è questo unito, no? Che solo chi compra i massimi e stola, ragazzi chi compra i miei è ancora più imbecille, finanziariamente parlando, non ci da mai offendere nessuno. Quindi la situazione è questa, il portafoglio è così come avete composto, ci potrebbero essere delle occasioni di acquisto a novembre? Probabilmente sì, probabilmente sì, sono presenti nei purgatori, nel parlare all'interno del circolo, però a grandi linee, cioè ripeto, mentre prima, fino a qualche mese fa, salivano questi cinque settori in maniera forte, preponderante, ve li ripeto, tecnologici, utili, finanziari, sicurativi e bancari, adesso stiamo in una piccola rotazione settoriale verso altri settori che potrebbero comunque accompagnare dei rialzi da qui fino a fine anno. Chiaro? Quindi occhio a ciò che fate, occhio ai titoli che mettete in portafoglio adesso. Cosa altro dirvi? Io per quest'oggi ho concluso, ringrazio tutti coloro che hanno interagito con me questa sera, vi ringrazio infinitamente per esservi liberati, perché per me è molto importante comunque la vostra presenza, soprattutto, anche se non ci sono state domande o comunque particolarmente inerenti l'operatività o la gestione delle posizioni, ho avuto comunque la possibilità di interagire con un pubblico particolarmente attento. Chi non volesse fermarsi qui sappia che al circolo si fa sul serio, nel senso che non è che siamo qui a smacchiare i gheppardi, come diceva Bersani, a me piace investire, la faccio con piacere, è una cosa che mi riesce anche abbastanza semplice, che non vuol dire facile, quindi chi di voi avesse piacere a approfondire e a continuare in separata sede con questo discorso relativo all'operatività, il numero di fede penso che ce l'avete, lo ripeto per l'ennesima volta, 351-7755-005, fatevi una chiacchierata con lì, trovate un accordo, ovviamente la promozione di 5.000 euro anziché 12.000 è, penso sia sicuramente spacchettabile in qualche rata, però ciò che conta è la vostra motivazione, non venite al circolo ragazzi se avete i grilli per la testa, se volete venire a vediamo Fabio cosa fa, no, cioè io so di non dover dimostrare nulla a nessuno per il semplice fatto che l'unica persona alla quale debba dimostrare qualcosa, sono io stesso perché investo in i capitali e ho tutto l'interesse affinché i miei investimenti vadano bene, però per chi di voi invece ha interesse, ha interesse a lavorare con me per un anno, sapete come procedere. Ciao Stefania, grazie a te, ciao Marco, ci vediamo domani al circolo, ciao Lello, ciao Giulia, ringrazio anche Stefano che ha interagito qui in chat e ovviamente il mio saluto a tutti coloro che vedranno per motivi di impossibilità ad esserci questa sera questo webinar in differita. Grazie per l'attenzione e la prossima da Fabio Brigida. Grazie. Grazie.